E' così, sulla sintomia. Vai a Duccio, vai. Prosegui, vai. Ecco le nostre piccioncine. Le ragazzine. La ragazzina, siamo ancora in Italia, non ti preoccupare, funziona il wifi. Aldo, più a destra. Aldo, com'è stata la salita? Siamo a tre regioni qua. Com'è stata la salita? Faticoso? Roby, questo è buono perché, vedi, siamo tutti a scendere il bicicletto perché i ragazzi non si sono fidati di farlo in bici, questo tratto, di scendere al lago, guarda. Però in bicicletta era simpatico. Non era molto, sì, è abbastanza tecnico, si può fare. Un po' di scendere con la bici, effettivamente. Però, c'è male questo trattino, l'abbiamo fermata sopra la bici, vabbè. Lo dico a te perché sei, diciamo, il più esperto del gruppo, diciamo. Senza affesa per gli altri, eh. Però qua mi diceva Daniela che stessi scesa anche tu. Noi scivoliamo comunque con le scarpe. Io ho le 510, eh, voglio dire. Cusine. Guarda, io simulo. Ritorno dai laghi di Fusine. E c'è Aldo che comanda la fila, con la sua solita andadura zigzag. Stai attento adesso. È da solo. Si se l'ha perso. Attenzione, senza collare. Adottare. Adottare. Ma lo prendiamo in braccio. C'è anche la miss qua, la diva, Anna Chiara, da Porto Cervo. E da Porto Cervo è tutto. Anna Chiara vi saluta, Anna Chiara Manna, col suo video. Grazie. Grazie a tutti.